Musica Condizioni di infrastruttura e hospitali nazionali nel centro di salute la sufficiente per il medico Sira a togliere l'attenzione per i pazienti. Ia plenare terza semana ne deputado Sira questione infrastruttura hospitali nel centro di salute Sira e a Dili tamba condizioni la sufficiente per il profissional di salute Sira a togliere l'attenzione per i pazienti e inclui ventilador no oxigeno NB a rumenus. Tiro observação Grupo Mulher Parlamentar Timor-Leste e Hospital Nacional nel centro di salute o paciente aumenta in sala emergencia in pediatria na CONUM. O ministro Saúde e vice-ministro a togliere l'attenzione per i pazienti e l'attenzione per i pazienti. Quando mi visito mi haere che il numero aumenta e condizioni di infrastruttura in hospital Guido Valadares la sufficiente due a togliere l'attenzione per i pazienti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.